pace e bene carissimi abbiamo appena iniziato questo mese dedicato alla vergine maria e oggi ricorre il compleanno di carlo acutis nostro amato beato che tanto amava la madre di dio il nostra carlo amava dire che tutti nasciamo originali ma molto muoiono da fotocopia per vivere da originali dobbiamo fare come carlo cioè essere noi stessi come dio ci ha pensati che il signore ti benedica pace e bene